musica 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 come fai buona fortuna buona fortuna è bravo ma aspeto yo te doy el mio no musica 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 oh ma che faccio i giudici? come sei? insomma insomma no spago però che è impossibile che appena il spago 33 metri 3 4 adesso qui chi sta allo con il nanzarei? io oh al debutto ha vinto incredibile ecco qui ecco qui ciao vago non c'è vai co come fate il ross? ma che non ha fatto in squadra di cosa? sto dito ma ne visti tre in ore ma ne starei tutta tre in anima per scegliere eeeh parete ma che vuoi aver usci il cavo? e tu me lo hai usci il cavo? vuole un miglia? 64, 74, 49, quanta vita? uno di vita c'è io hai uno di vita, veramente? no, eravamo 5 ho un giusto, vede c'hai uno di vita, veramente? non c'è in 3 buonanotte stavo a dire questo ragazzo è bravo eh ma cazzo ah 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 non ho capito Gemini stavo a dire bravo questo ragazzo è abbastanza se la cavo se la cavo, ha preso la 1 inizio quarantena da là che gioco no, se la cavo, intanto sto andando due round si che comunque non stiamo a giocare per giocare non stiamo a giocare per vincere diciamo vabbè il tuo attento è un mancazzato ah è tutto sparato mannaccia la miseria per esempio qui 7 vite non è tutto l'ultima no un bel non no non il ma chi è chissà? eh vabbè 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 viva basta ma ero brutto cazzo amico però ma non è più bello non è più bello ma guarda ho fatto da traversa è perciò 30 di mira le rimaste come hai detto sparo? il livelli di 3 yard dice si vai 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 si perchè non è senta sparo si vado vado iiii voi giocavamo si ho capito Sì, in atto... Mi ho incaduto guarda, non giocavo ormai, infatti io. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui, in alta parte. Pago, dici, assenito più che sono un pro player mancato, dici. Ha detto... Ha detto quello che si è unito ora, che sono un pro player mancato. Quello che si è unito ora. D-RTG... Insomma. Ma nessuno muore! Ma nessuno muore! Ma nessuno muore! Ma nessuno muore! Che muore! Eh no, eh no, io so... Allora, eh, lo so che ho portato a cazzo, però non ho mai un obiettivo fisso. Io jumbo, dove a terra a terra mi trovo a Q. Comunque, non so che sperava a pago, ma pago a 60 di vite. Ora 110. Guarda, c'è un muore di 6. Scusami! running. Hello! Come se... Io ho dato di tryharding... è eccezionale! So come... Ho avevo GroKing. Noahahaha! Ho chissé! ma comunque ha un impegno c'è un impegno c'è un game di safe ma dove scappano c'è? mi fa ridere, mi fa ridere la gente che scappa così mi sembra che deve andare a fare qualcosa di importante ma guarda che passaggio, io che è giusto è proprio che siamo stituti non ho capito il calabresco ok non ho capito il calabresco non mi rimediamo tanto non per niente sei una persona poco sportiva ah ok oppure che puzzi perché sei un vetoso sei stupido pensavo che fosse poco almeno, devo essere sincero infatti io mi sono misato la realtà sincero eccomi è c'è fai cosa la scrivi c'è la tena però il game è brutto fuori mannaggia ci fa il dupaaah ma questo passa in mezzo alle strutture per per meglio non c'è il microfono non c'è il microfono però non ho capito che cosa gioca pago da xbox giusto sì no qualche problema le cuffie dovrei andare a vedere a casa sulla dei più stati ma da chi ho un momento che ho un punto di merda ma ci sono tutti stanno ma non c'è ma che giochi in mezzo mamma mia secondo ho vinto sebi è un po' per me è un po' incredibile non c'è